Cosa è mancato a Montegiorgio? Solo il gol, la prestazione infatti c'è stata. E' sicuramente un pizzico di fortuna nel concretizzare meglio le occasioni create e soprattutto nelle valutazioni del direttore di gara che nella stessa azione è stata capace di non concedere un rigore e annullare un gol. A metterci la faccia, a spiegare cosa non ha funzionato, è l'attaccante Pietro Cogliati. Queste le sue sensazioni nell'immediato dopo gara. Ho ricevuto un bel filtrante da Vittorio, sono andato verso la porta, il difensore da dietro mi ha toccato il piedre uno dei più classici sgambetti, si è sentito anche il rumore e tutto, però l'arbitro ha deciso di non dare niente. E anche lì il contatto c'è stato, poi comunque nel dubbio, visto anche nel primo tempo che non hai dato il rigore nel netto dove anche i giocatori loro dicevano che c'era, quindi anche solo se hai un dubbio a parer mio lasci scorrere e facciamo gol nella stessa azione, oppure fischi rigore, non lo so. Da inizio anno abbiamo preso solo due rigori, anche mi ricordo a Castelnuovo una partita falsata che ha fischiato una simulazione a bontà o a Vitali un'altra occasione ha fischiato contro Notaresco e anche lì c'era rigore netto a munizione, è anche stato espulso, quindi sono stati molto penalizzati da questo punto di vista. Lascia amarezza, lascia dispiacere perché abbiamo giocato bene, abbiamo interpretato la partita come doveva essere interpretata. Il campo di certo non era dei migliori, però appunto noi siamo riusciti a interpretarla e abbiamo fatto, secondo me, una buona prestazione, abbiamo creato tanto. Poi io per primo magari bisogna essere più lucidi sotto porta, però c'è rammarico, c'è rammarico perché comunque la squadra c'è, ha dimostrato, stiamo bene, è un peccato andare via solo con un punto. Nel secondo tempo era una grande palla di Kevin, ci sono arrivato anche, ho impattato anche bene, però lì basta qualche centimetro di più o di meno e fa differenza. Nonostante il pari, il campo basso resta primo, posizione che non vuole mollare fino al termine della stagione. Il campionato dipende da noi, dobbiamo pensare solo a giocare come sappiamo, continuare sulla strada che stiamo percorrendo e bene, secondo me, e adesso magari riusciremo ad avere meno i frasettimanali, la settimana normale che ci permette anche di lavorare, preparare meglio le partite e dobbiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo andare via a fare la corsa solo su di noi.